Potrebbe sembrare la quiete dopo la tempesta, ma sul tavolo delle contrattazioni tra amministrazione e rappresentanti dei dipendenti comunali sono ancora molte le questioni da affrontare ed altrettanti nodi da sciogliere. E se per adesso lo stato di agitazione è stato scongiurato e qualche passo in avanti è stato fatto con l'accordo per il riconoscimento dei festivi infrasettimanali, la risoluzione di alcune tematiche importanti, dicono i rappresentanti dei lavoratori di Palazzo Cavallo, è ancora lontana. Finalmente è partita una contrattazione vera, purtroppo con un forte ritardo e questo rende complicata la soluzione di tutti i problemi che si sono assommati sul tavolo. Ancora abbiamo da risolvere un problema per esempio legato alla produttività del 2014, non sappiamo come risolvere il tema dei residui non assegnati per esempio. Oppure sulle particolari responsabilità, la destinazione delle risorse, insomma questo tavolo è un tavolo molto complicato. Mi pare di vedere almeno una disponibilità a discutere e però siccome le questioni sono complesse il risultato finale ancora è tutto da vedere. Dobbiamo renderci conto che oggi le risorse che vengono erogate in base alle norme che esistono nazionali di contrattazione decentrata, che è l'ultima che deve essere rimasta in vita, richiedono comunque per essere inserite ed erogate ai dipendenti, richiedono una certa progettualità. Cioè traduco, il dirigente deve a inizio anno decidere cosa dover effettuare per migliorare le prestazioni ai cittadini. Perché ricordiamolo sempre, la parola d'ordine è migliorare i servizi ai cittadini.